Tutti pazzi per le supercar, a parte uno. L'ultima immagine di una star del calcio, Roberto Baggio, è un inno alla normalità. Fuoriclasse in campo e anche nella vita, perché l'ex di Vincodino continua a distinguersi come nessun altro. Uno dei più grandi calciatori italiani di tutti i tempi torna in auge grazie a una foto postata su Instagram dalla figlia Valentina. Lui ha lavoro nei campi con una panda 4x4. Lo scatto fa il giro del web scatenando i like di chi ancora lo ama. A 16 anni dal ritiro, quella del pallone d'oro 93, è una cartolina al mondo rutilante del calcio moderno, in cui le auto sono diventate il simbolo della propria popolarità. Cristiano Ronaldo ne è un collezionista istancabile, possiede almeno una ventina di esemplari rarissimi, Porsche, Ferrari, Maserati, Bugatti, Bentley, Lamborghini e tante altre, custoditi in un garage costruito appositamente, dotato dei più sofisticati dispositivi antifurto. Come poteva mancare Leo Messi in questa corsa sfrenata, il gol delle quattro ruote, anche la pulce attratta dai motori fin da quando era un ragazzino, così come Neymar che già ai tempi del Barcellona esaudì, parole sue, il sogno più grande, cioè quello di comprarsi una Ferrari personalizzata, costo 500.000 euro. Giocattoli da adulti che hanno conquistato gli animi più stravaganti del calcio mondiale, dagli Icardi a Balotelli, fino all'ex Lazio Sisse, uno dei più appassionati calciatori collezionisti d'auto, ha posseduto Rolls Royce uniche, addirittura una Cadillac in pelle di serpente con discoteca incorporata e macchina del caffè sempre accesa. Niente però in confronto alla Panda 4x4 di Roberto Baggio.